La mappa dell'evasione Tari in città, presentata ieri in Commissione Controllo e Garanzia dall'Assessore alla Sicurezza Flora Leoni, lascia pochi dubbi sulla principale lingua parlata da chi non è in regola con il pagamento della tassa su rifiuti. Sia i pallini rossi, ossia gli evasori totali, che quelli gialli, corrispondenti a situazioni di pagamento non ancora effettuato, si concentrano soprattutto nei quartieri ad alta presenza cinese, il Macrolotto 0 e il Macrolotto 1. Nello specifico, questi due colori e la loro collocazione sulla mappa portano in dote un altro aspetto importante per capire il fenomeno e di conseguenza per combatterlo. Le situazioni in sospeso riguardano soprattutto le aziende, perché i pallini gialli sono concentrati al Macrolotto 1, che ormai è diventato un grande distretto dell'abbigliamento low cost e con pronto moda cinesi ovunque. Gli evasori totali, sconosciuti ad Alia e al Comune, scoperti solo grazie a controlli incrociati, sono utenti domestici e commerciali che vivono al Macrolotto 0, diventato ormai un quartiere residenziale per la comunità orientale. La concentrazione di pallini rossi in questa zona lo dimostra. I pallini verdi rappresentano le posizioni regolari e ovviamente il loro numero è marginale rispetto al resto. In un post su Facebook, il capogruppo della lista Spada Sindaco, Daniele Spada, non fa sconti. Lo vogliamo ammettere o no che abbiamo un problema con la comunità cinese che in gran parte va della tassa su rifiuti? Tra l'altro le situazioni debitori in sospeso riguardano le imprese. Scommettiamo che a breve quasi tutte saranno state chiuse per poi riaprire sotto altro nome? Il nucleo anti-evasione dei tributi locali ha quindi il suo bel da fare. Dal 2014 a oggi, nelle varie operazioni messe in campo in accompagnamento ai controlli degli ispettori ASL nelle aziende cinesi sono stati incassati oltre 3 milioni e 325 mila euro di tributi locali.